Eccoci, allora questa è, ovviamente abbiamo estrapolato la mia installazione qui. Abbiamo creato poi anche delle video installazioni, quindi questo è stato, tutto quello che vedete è stato poi estrapolato da alcune mostre. Bello. Sì. Beh, questo è la comando a Pasolini. Il video l'abbiamo, diciamo, fatto questo asincro, cioè il video che va in uno dei touch screen al piano terra dell'acquario e qui invece possiamo ascoltare l'audio ed è un omaggio a Pasolini che è stato uno dei primi registi ad utilizzare il mashup nel film La Rabbia, parliamo del 1962, comunque anni 60 più o meno, e questa è praticamente anche un omaggio a quello che è stato un po' il papà della video arte che è Nandun Pike. La scelta è stata quella proprio di lavorare con nuove tecnologie, quindi abbiamo video digitali all'interno dei monitor e creare invece questi salotti retro con oggetti di moderni areato, poi mescioppati con oggetti che poi si trovano tutti i giorni nelle nostre case e quindi, come vedi, in uno dei nostri salottini è di destra, quello proprio del video che si guarda proprio nel salotto, un salotto, quindi un vecchio salotto anni 50, anni 60 e in realtà non è scioppato con quelli che sono gli oggetti contemporanei, quindi favolosi tavoli nikea o lampade nikea che fanno parte ormai del nostro quotidiano. E quindi è una cosa che già hai usato in un'altra situazione. Sì, abbiamo proprio riprodotto delle piccole cose, quindi estrapolato delle installazioni in questo caso diventano dei punti in luce per invitare quindi a questo percorso particolare all'interno del mesciato. Grazie. Grazie. Grazie.